Ben tornati, siamo in studio con il sindaco di Casal Maggiore, Filippo Bongiovanni, che saluto e ringrazio per essere qui con noi. Grazie signor sindaco. Buonasera direttore, buonasera a tutti i telespettatori. Iniziamo quindi questa chiacchierata con Filippo Bongiovanni, innanzitutto guardando agli appuntamenti che hanno caratterizzato un po' anche il comune di Casal Maggiore per quanto riguarda l'anno che ci stiamo lasciando alle spalle. E quindi vorrei chiederle in primo luogo, c'è qualche elemento, guardando proprio questo 2022, che vuole sottolineare come particolarmente significativo per il territorio? È stato un anno di tanta preparazione agli investimenti che ci saranno nel 2023, perché tra risorse PNRR e altre tipologie di risorse di bandi, il comune di Casal Maggiore ha introitato più di 6 milioni di euro, anzi 6 milioni e mezzo. E quindi saranno tutti mano a mano spesi nel 2023, 2024, sono progetti di una certa rilevanza, importanti. In più non voglio dimenticare che siamo riusciti a garantire assolutamente tutti i servizi, sia a livello sociale che a livello di istruzione. Insomma, con due anni di Covid non era così scontato, ma il comune di Casal Maggiore ha retto bene la valanga di pandemica. Ecco, per quanto riguarda, entrando nel merito di alcuni di questi progetti, ad esempio il palazzetto dello sport, è stato presentato il nuovo progetto, ora a che punto siamo? Siamo alla fase del progetto esecutivo già approvato, quindi imminente è la gara d'appalto. Dovevamo aspettare due cose, uno è un'integrazione dell'accordo di programma che abbiamo fatto con Regione Lombardia, che visto l'aumento dei prezzi delle materie prime, ha innalzato la sua soglia di finanziamento, arrivando a finanziare il palazzetto per 2 milioni e 850. È un'opera che costerà attorno ai 6 milioni e i restanti, e quindi questa è la seconda cosa che aspettavamo, sono con un mutuo all'istituto di credito sportivo di 3 milioni e 115 e questo mutuo, aspettavamo la risposta che è giunta qualche giorno fa, è a tasso zero, gli interessi zero e questo consente il fatto che l'opera possa essere assolutamente eseguita, paltata ed eseguita nel corso del prossimo anno e sicuramente si concluderà nel 2024. Guardando invece a un altro tema rilevante, quello della viabilità e anche un po' il sogno, possiamo dire così, della tangenziale, ci sono sviluppi? Ma allora, la tangenziale è legata a parecchi aspetti, sostanzialmente la tangenziale è un'opera compensativa di quella che è la Tibre, l'autostrada Tirreno-Brennero, il cui tratto fino a Sisse-Tre-Casali, tra Parma-Ovest e Sisse-Tre-Casali dovrebbe inaugurare a breve. L'autostrada, se fermata, serve un finanziamento governativo di un certo tenore, di un certo spessore, che ad Autocisa, che è la concessionaria, non è mai arrivata. Nel frattempo, Cremona-Mantova, anche lì siamo in attesa delle decisioni, adesso ci sono dei ricorsi al TAR, tra Stadivaria e Regione Lombardia, perché fondamentalmente quelle due autostrade hanno un pezzo in comune. Chi prima arrivava, prima faceva quel pezzo, poi l'altro concessionario avrebbe risarcito. Lì ci sono tutte le opere compensative, inclusa tangenziale di Casal Maggiore, quindi il primo che arriva la fa. Sono decisivi questi mesi, se trovano una quadra tra Regione Stadivaria o se il nuovo Ministro dell'Infrastruttura decida, come mi sembra, di puntare comunque su un'infrastruttura anche come la Tibre, insomma, buone speranze. Qualcosa si sbloccherà. Guardando invece all'ambito sanitario, lei ha ricordato i due anni della pandemia, le difficoltà vissute, guardando proprio al distretto sanitario dell'Oglio Po che è partito, ora che cosa si devono attendere i cittadini casalaschi? Allora, teniamo presente che è stata una cosa fortemente voluta dai sindaci, dai sindaci del territorio Oglio Po, del Casalasco-Viedanese. Prima eravamo un ambito distrettuale che sostanzialmente aveva una funzione meramente sociale, quindi difficilmente riusciva a intervenire o comunque dire la propria, se non così, in modo assolutamente non decisivo nei confronti degli aspetti sanitari e sociosanitari. Adesso con la formazione di un distretto, con un suo direttore, poi tra l'altro ci sono case di comunità, ospedali di comunità e l'ospedale per acuti Oglio Po, riusciamo ad avere un tutt'uno per prendere e consigliare, a recaldeggiare delle decisioni nei confronti di ASST Cremona e di ASST Mantua. In questo momento il nostro distretto è sotto ASST Mantua, ma questa è stata una cosa voluta e accordata tra sindaci, poi fra qualche anno, quando cesserà il direttore odierno, potranno essere ribaltate le cose. Però ci siamo insediati e i sindaci sono già assolutamente pronti al dialogo con i direttori di distretto e con i direttori sanitari e sociosanitari delle due ASST che si sono resi, anche i direttori generali per questo, disponibili ad ascoltarci in ogni forma, in ogni modo. Quindi c'è un'unità territoriale su quello, la regione Lombardia va detto che ha investito diversi milioni, e investirà diversi milioni sulle strutture, il problema italiano, Lombardo, Casalasco e anche Cremonese è per quanto riguarda il personale medico-sanitario e inferioreistico. Ce ne sono pochi, è difficile trovarli e quindi bisogna fare qualcosa tutti assieme. Certo. Abbiamo già affrontato parecchi temi, ma se dovesse individuare per il 2023 una priorità per il Comune di Casal Maggiore? Ma allora, il 2023 per il Comune di Casal Maggiore sarà un anno abbastanza difficile, perché vengono a collimazione diverse cose nello stesso momento, il bilancio è assolutamente solido, non abbiamo, per il 2023 abbiamo appena fatto il Consiglio Comunale, non abbiamo aumentato le tasse, abbiamo aumentato qualche tariffa, siamo stati costretti, perché chiaramente i servizi a domanda individuale con gli aumenti di materie prime, luce, gas, eccetera, è inevitabile che tutte le strutture costano assolutamente di più, quindi abbiamo dovuto aumentare un po' le tariffe. Però tutto sommato è un bilancio che rimane solido, è un anno questo dove pagheremo più rimborso mutui, quindi abbiamo un bilancio leggermente più rigido rispetto agli altri anni, ma dal 2024 sarà più libero, ecco, e quindi avremo modo di spendere un po' di più. Quindi sarà un anno di transizione in attesa degli investimenti, anzi, appartiranno molti investimenti, se posso dire le opere un po' più importanti, stiamo ristrutturando il Torrione, un milione e mezzo a fondo perduto dal governo, stiamo ristrutturando la scuola di Vico Belliniano, scuola elementare di Vico Belliniano, 350 mila euro da regione attraverso fondi bei, a fondo perduto. Stiamo ristrutturando degli appartamenti comunali, popolari, in via Romani, 628 mila euro, PNRR, in più stiamo realizzando il progetto esecutivo dell'ex macello, ex magazzino comunale, che andrà in ristrutturazione per 4 milioni di euro, più il palazzetto che dobbiamo intraprendere la gara. Quindi sarà un anno di lavori e di progetti per lavori che sono già sicuri e cantierabili tra il 2023 e il 2024. Senta, appena termineranno queste festività, tra pochi giorni entrerà nel vivo la campagna elettorale per le elezioni regionali, prima di tutto le voglio chiedere se lei sarà un candidato. Il mio nome è sul tavolo, non escludo che potrei essere candidato. Ecco, in caso di elezione si interromperebbe il suo mandato come sindaco? Beh, ovviamente i due ruoli sono incompatibili, però c'è un modo per accompagnare la transizione di alcuni mesi per cui la mia giunta e il mio consiglio, il consigliere comunale e giunta, riusciranno ad andare fino alla fine del mandato. Ecco, allora un'ultima domanda in chiusura più politica. Appunto, Filippo Bongiovanni è esponente della Lega. Riguardo alle ultime elezioni politiche, il dato anche a Cremona è stato in flessione deludente, ora quindi c'è un obiettivo diverso per le regionali? Sì, l'obiettivo è un po' diverso, c'è arrivato un segnale abbastanza forte dagli elettori scontenti di un certo andamento all'interno della Lega, però la Lega non ha altre soluzioni che continuare a lavorare, ascoltare il territorio, gli amministratori del nostro territorio. Comunque sono conosciuti in regione Lombardia, chi ha comunque contatti con il territorio, con gli assessori, eccetera, siamo noi alla fine della fiera. Quindi fondamentalmente non è scontato che la Lega potrà mettere il consigliere regionale, ma ha buone possibilità e io sono sicuro che il cittadino di fronte ad una scelta rispetto al segnale delle politiche alle regionali ragionerà in un modo un po' diverso. Bene, allora grazie a Filippo Bongiovanni per essere rimasto con noi, per aver risposto alle nostre domande. Gli facciamo gli auguri di buon anno e anche un in bocca al lupo se intraprenderà questa strada della campagna elettorale nelle prossime settimane. Grazie a tutti voi e buon anno, un buon 2023, che sia pieno di gioie per tutti i telespettatori e per la vostra tv. Grazie, grazie anche a tutti voi per averci seguito e di nuovo gli auguri di buon anno. Grazie a tutti voi per averci seguito e di nuovo gli auguri di buon anno.